Sì, devo salutare, posso salutare? Certo, allora io saluto, mi approfitto per salutare la mia ex moglie, mia figlia, mia figlia crocifissa, bella di papà, bella di papà, devo salutare la mia ex moglie, certo, la mia ex moglie, ma domanda sempre, non è vero, non è vero ragazzo, non l'ascoltate perché non è vero, però ognuno, capisci non vale nessuno, non vale nessuno, ma quando sempre sono da mia, dice che sono per mia figlia, eccetera, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma basta, ma se ne avanza me la porto, assolutamente, allora, provola, come se piovesse, parmigiano, parmigiano e il basilico nella pasta delle patate, non c'è, ma noi le lo mettiamo perché è ridiscata, è ancora bello profumato, è bello profumato, cantichiamo la nostra canzoncina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, Non c'è capire che la perdita Non c'è capire che la perdita Non c'è capire che la perdita Non c'è capire a tutti Non c'è capire Un stop, un scuzo, un scuzo, un stop E le 4 giorni